Oggi andremo a mettere sotto torchio questa RTX 4080 Super nei diversi benchmark di produttività e gaming Andremo a scoprire poi se è una valida scelta nel momento attuale o se invece conviene aspettare l'uscita delle RTX 5000 previste per inizio anno nuovo O se invece ci sono anche altre alternative Ciao ragazzi ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Intendaro Pazzo Oggi siamo qui con questa bestiona che è un Nvidia RTX 4080 Super Attualmente la seconda scheda video più potente disponibile nel mercato consumer Alla pari almeno in alcuni ambiti con la Radeon 7900 XTX E seconda potremmo dire solamente alla 4090 sempre di Nvidia Tutto questo discorso è valido ovviamente prima dell'uscita delle RTX 5000 Che si sa già dovranno uscire con l'inizio dell'anno nuovo Però visto che ancora non sono uscite questa scheda ecco mantiene questo titolo E in questo video andremo a scoprirne le prestazioni confrontandole anche con la sorella minore di questa 4080 Super Cioè la RTX 4070 Ti Super che invece abbiamo visto in uno scorso video E che oggi andremo a vedere solamente i benchmark confrontati con questa 4080 Super Prima però di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale Attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche Così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale La domenica alle 2 di pomeriggio Inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali telegram di offerte Uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi L'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon Quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top Infine vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok Dove trovate tutti i video brevi però in versione integrale Visto che su YouTube ancora oggi vengono tagliati a 60 secondi E ora direi di ripartire con le specifiche tecniche di questa 4080 Super Uscita inizio anno 2024 la 4080 Super fa parte di quello che è stato il refresh da parte di Nvidia Delle RTX 4000 Super Perché insieme alla 4070 Super, 4070 Ti Super Ecco andava a rispondere a delle esigenze di mercato ben specifiche Mentre la 4070 Super andava ad aumentare quello che era il rapporto qualità prezzo per costo effettivo Questa 4080 Super andava a migliorare quello che era stato il tallone d'Achille della RTX 4080 Quella che conosciamo dal 2022 Poiché andava ad abbassare direttamente il costo MSRP Portandolo a 1000 dollari rispetto ai 1200 che costava la 4080 Quindi in realtà in termini di specifiche tecniche la 4080 Super è sostanzialmente una 4080 Con veramente qualche core in più sbloccato In termini di frequenze siamo lì e in effetti la differenza prestazionale si attesta tra le due schede Di circa 1-2% in favore di questa Super Quindi non parliamo effettivamente di un modello stravolto chissà quanto Ma invece sostanzialmente di un abbassamento di prezzi voluto da Nvidia Immergendoci più nello specifico nelle caratteristiche tecniche di questa RTX 4080 Super Troviamo al suo interno un chip AD103 basato sull'architettura di Nvidia Ada Lovelace Al suo interno abbiamo 10.240 CUDA Core sloccati Che operano a una frequenza di boost sulla carta per i modelli reference di 2500 circa MHz Mentre per i modelli custom vi dico le frequenze operative arrivavano facilissimamente anche a 2700 circa MHz Quindi davvero niente male come frequenze E in termini di memoria VRAM abbiamo 16 GB di VRAM di tipo GDDR6X con un bus a 256 bit Le memorie sono a 23 gigabit per second Il che si traduce in un bandwidth complessivo di 736 gigabyte al secondo In termini di TDP e consumi abbiamo un TDP di 320 Watt Che non è pochissimo però il consumo effettivo nei giochi vi posso dire In realtà era ben al di sotto di questi 320 Watt Poiché l'abbiamo riscontrato un consumo anche nei titoli più pesanti Con ray tracing abilitato e quant'altro intorno ai 250-260 Magari in qualche carico di lavoro specifico arriva anche vicino ai 300 Però è ben al di sotto dei 320 Watt stimati Per quanto riguarda la dissipazione in questo caso abbiamo una customizzazione di Asus Ed è la TUF una delle più famose che conoscerete sicuramente Questa volta poi davvero mi trovo di fronte a una scheda grafica Che è probabilmente la più grande che mi sia passata per le mani Perché il dissipatore è veramente mastodontico Secondo me anzi potevano risparmiare qualcosina Perché come vi ho già anticipato i consumi non sono molto elevati Quindi di conseguenza le temperature non potranno essere roventi A maggior ragione con un dissipatore del genere Veramente vedremo dei risultati di temperature ottimi Prima però di passare ai benchmark vi dico subito Andremo a vedere anche un breve tutorial di Undervolt Per far consumare questa scheda veramente parecchi Watt in meno Senza perdere prestazioni E però prima di arrivare a questo tutorial Ci tengo ovviamente a specificarvi la piattaforma di test Che in questo caso è composta dall'ultima revisione della testbench Di cui trovate un video qua in alto nelle schede realizzato in queste settimane E al suo interno abbiamo un Ryzen 7 7700 8 core 16 thread su architettura Zen 4 Accompagnato da 32 GB della Silicon Power A 6000 MHz CL30 ovviamente DDR5 Come scheda madre invece abbiamo una Asus ROG Strix X670E Davvero un'ottima scheda madre e anzi overkill per questo Ryzen Ma se siete curiosi del perché ho scelto questa scheda Ripeto andatevi a vedere il video sulla testbench Come dissipatore abbiamo l'Endorphi Navis F240 ARGB Che tiene senza problemi questo Ryzen sotto controllo in termini di temperature E come alimentatore abbiamo un Thermaltake da 1050 Watt Full modulare e 80 Plus Platinum Come SSD infine abbiamo un Crucial T500 da 2 TB Detto questo direi che ora possiamo passare al tutorial di Undervolt Poi ai Benchmark e infine alle considerazioni riguardo questa 80 Super Per fare l'Undervolt su questa scheda ci serviranno due programmi Event Benchmark e MSI Afterburner Su Event Benchmark assicuriamoci che non sia spuntato il full screen Così da poter utilizzare MSI Afterburner senza problemi Apriamo poi le impostazioni di quest'ultimo E vediamo che ci sia la spunta su Sblocca il monitoraggio del voltaggio e sblocca il controllo del voltaggio Applichiamo e facciamo partire EVEN Benchmark Apriamo quindi con CTRL F su MSI Afterburner la curva L'editor della curva e andiamo a selezionare il punto di voltaggio di 900 mV Tenendo premuto SHIFT portiamo sulla curva fino a un valore di 2600 MHz In questo caso poi andiamo a selezionare il trattino tra i due intervalli E tenendo premuto il tasto sinistro del mouse senza SHIFT Selezioniamo tutta la curva di destra e la andiamo ad abbassare Ripeto senza tenere premuto SHIFT in questo caso Diciamo la andiamo a abbassare fino in fondo Andando poi ad applicare vedremo che la curva si è appiattita Quindi su 2600 MHz e 900 mV In teoria l'undervolt sarebbe già concluso ma andiamo ovviamente anche a sistemare la VRAM Che in questo caso almeno nel mio esemplare Riesce ad arrivare a 1400 MHz in più nel memory clock Che non è male Diciamo quelle più fortunate arrivano anche a 1600-1800 Una particolarmente sfortunata magari con più 1000 MHz riuscite Una volta applicato andate anche ad aumentare power limit e temperature limit E se l'undervolt sarà stabile mi raccomando Bisogna provarlo anche nei giochi soprattutto con ray tracing Andiamo a salvare insomma ad applicare sempre questo undervolt Possiamo far partire il programma anche con l'avvio di Windows Come risultati abbiamo che la scheda a stock va a consumare 260 Watt In undervolt 180 quindi c'è un risparmio di circa 80 Watt Che non è male considerando poi che la differenza di frame rate è praticamente inesistente Stessa cosa anche su control perché da 240 Watt di media Passiamo a 170 Watt anche qui 80 Watt in meno E i risultati di frame rate sono praticamente al margine di errore Sostanzialmente abbiamo due risultati identici La scheda è stabile quindi direi che l'undervolt è riuscito Iniziando ora con i benchmark di produttività abbiamo Cinebench 2024 Qui la 4080 stacca di molto la 4070 Ti Super che ho deciso di testare in questo video Su Blender Open Data 4.0 abbiamo 8703 punti contro 6801 Quindi anche qui un bel vantaggio per questa 80 Super Su Octanebench con RTX abilitato anche qui abbiamo una bella differenza 945 punti contro 827 della sorella minore Su Specview Perf vediamo i vari risultati e anche qui in ogni singolo test La 4080 Super è superiore non di poco rispetto alla 70 Ti Super Su Geekbench 6 con Vulkan abbiamo dei risultati che sono sempre in favore della 4080 Super Tranne che per un risultato che determina anche il punteggio un po' più basso della 80 Super Su V-Ray 6 invece abbiamo i due punteggi e in entrambi i casi sono parecchio superiori rispetto alla 70 Ti Super Con Stable Diffusion, Automatic 11 Even e X-Forms abilitato abbiamo 26,5 interazioni contro 23 Anche qui un bel vantaggio Ora direi di passare ai giochi Su Control in 1440p e settaggi di Digital Foundry abbiamo una discreta differenza Anche se facciamo in entrambi i casi un numero esorbitante di frame 215 contro 172 In 4K DLSS Quality, Digital Foundry Settings e Ray Tracing Max Stato Stranamente non abbiamo una grossa differenza Cosa che riscontreremo anche su Alan Wake 2 con Pad Tracing In 1440p Alan Wake 2, DLSS Quality e Digital Foundry Settings 125 fps contro 109 della 70 Ti Super Quindi anche qua bella differenza In 4K con DLSS prestazioni e Ray Tracing al minimo 53 contro 52 fps Più o meno la cosa che vi dicevo poco fa Se però abilitiamo il Frame Generator Ovviamente una scheda come questa fa faville perché arriviamo a 81 fps Con anche un ottimo 1% low in un gioco veramente che sarebbe pesantissimo Su Death Stranding in 1440p e settaggi al massimo Abbiamo una differenza di circa 20 fps tra le due schede Che quando ne stiamo facendo così tanti insomma non è una differenza troppo apprezzabile E soprattutto in 4K facciamo 131 fps contro 130 della 70 Ti Super Cosa che anche qui non mi spiego perché non siamo CPU limited Quindi non lo so Comunque su Fortnite capitolo 5 Stato Generale 4 DirectX 12, 1440p e settaggi medi Riscontriamo un po' dei frame rate similari Qui potremmo essere un pochino CPU limited Ma anche in 4K con tutto al massimo epico anche retracing In realtà la 70 Ti Super sembra fare qualche frame in più E anche questa cosa non me la spiego più di tanto Su God of War 1440p e settaggi al massimo 145 fps per la 80 Super contro 120 della 70 Ti Super Quindi almeno qui vediamo un po' di differenza Invece in 4K con DLSS Quality Facciamo con la 80 Super 125 fps e con la 70 Ti Super 102 fps Quindi una bella differenza di circa il 25% Cyberpunk 1440p e settaggi di Harder Unboxed Questo è un gioco palesemente CPU limited in questa zona 118 fps contro 114 della 70 Ti Super In 4K invece già si nota la differenza 90 fps contro 74 della 70 Ti Super Mentre se passiamo ai benchmark in Path Tracing In 4K DLSS Prestazioni, Path Tracing e Frame Generator On Vediamo una piccola differenza Con 80 fps circa contro 68 quindi comunque non male Resident Evil 4 Remake, 1440p e priorità alla grafica come settaggi 172 fps contro 163 quindi non chissà quanta differenza In 4K con preset RT abilitato 111 fps per l'80 Super contro il 93,8 della 70 Ti Super Se passiamo ora a The Finals in 1440p DLSS Quality e settaggi tutti al massimo 137 fps contro 128 della 70 Ti Super Quindi in entrambi i casi risultati super godibili In 4K e sempre con settaggi maxati però con DLSS Prestazioni Facciamo 131 fps contro 88 della 70 Ti Super Quindi una ottima differenza Su Age of Mythology Retold in 4K maxato ma senza retracing Abbiamo 143 fps per l'80 Super che è il limite del frame rate contro 136 della 70 Ti Super In 4K maxato con anche retracing al massimo 99 fps per l'80 Super contro 84 della 70 Ti Super Quindi una discreta differenza Su Blackmeet Wukong in 1440p DLSS Quality e settaggi ottimizzati dei Digital Foundry 109 fps contro 94 della 70 Ti Super Se passiamo ora al 1440p stessi settaggi ma con frame generator on 151 fps contro 133 Quindi davvero anche questo gioco molto pesante risulta essere super fluido con queste schede In 4K con DLSS Prestazioni e anche Ray Tracing a Ultra con frame gen on 84 fps contro 72 Se passiamo ora a Final Fantasy XVI l'ultimo titolo che testeremo 1440p DLSS Quality e settaggi maxati 113 fps contro 87 fps della 70 Ti Super Quindi una bellissima differenza In 4K DLSS Prestazioni sempre settaggi maxati 97 fps contro 73,7 che produce la 70 Ti Super Ora il test con frame generator on 136 fps per la 80 Super contro 121 per la 70 Ti Super Eccoci qui ragazzi dopo aver visto i benchmark di questa scheda grafica Che dire le prestazioni sono sicuramente ammirevoli e abbiamo come vi ho già anticipato nella intro Prestazioni da seconda della classe attualmente al di sopra di questa c'è solamente la 4090 E questa 4080 Super nei benchmark di produttività abbiamo visto si avvicina veramente tanto Sia alle prestazioni della 4090 e di conseguenza stacca parecchio la 4076 Super che abbiamo confrontato in questo video Nei giochi la cosa è un po' diversa perché alcuni titoli vediamo un netto miglioramento intorno al 15-20% anche qui Che non è poco sicuramente e va a giustificare sostanzialmente il prezzo maggiorato che ha questa 80 Super rispetto alla 70 Ti Super Mentre in qualche altro titolo abbiamo visto un comportamento un po' strano perché ecco il miglioramento era veramente risicatissimo Vi dico poi vabbè Cyberpunk in realtà è l'unico caso che mi so spiegare perché vado a testarlo in una zona del gioco che è molto CPU limited E il Ryzen 7 7700 pur testando il gioco in 1440p ecco faceva la bottleneck a questa scheda grafica e forse un pochino anche alla 70 Ti Super Però ripeto nel caso di altri giochi non so spiegarmi bene il perché di questo comportamento Però nella stragrande maggioranza in realtà possiamo aspettarci un miglioramento rispetto alla 70 Ti Super di circa il 18% Parlandovi meglio dell'ambito prezzi questa è una scheda grafica da 1000 dollari che sicuramente ecco non è economica Però abbiamo visto rispetto alla 4070 Ti Super che invece è una scheda da 800 dollari Il miglioramento in termini di prestazioni è vicino al 20% e anche l'aumento di costo dalla 70 Ti Super alla 4080 Super è intorno al 20% forse qualcosina in più Quindi questo ci fa capire che questa 4080 Super mantenga effettivamente un rapporto qualità prezzo ancora abbastanza buono Poi certo paghiamo di più però abbiamo anche prestazioni in più Quindi è sicuramente una valida scelta per chi vuole andare ad avere prestazioni migliori rispetto alla sorella inferiore a questa Però ovviamente pagando qualcosina in più in termini di rapporto qualità prezzo Ma tutto questo andrebbe bene se fossimo magari inizio anno La cosa il grande elefante nella stanza come si suol dire è che siamo praticamente a due mesi tre mesi massimo secondo me dal lancio delle RTX 5000 di fascia alta Perché ecco sappiate sono quasi sicuro e mi metto la mano sul fuoco che usciranno 5080 5090 e non altri modelli almeno a inizio 2025 Per questo motivo io vi direi visto che si tratta di pochi mesi a meno che non siate veramente disperati Perché magari vi è saltata la scheda video che già avevate dovete ricomprarla subito per questioni lavorative e quant'altro Vi dico se no di aspettare A mio parere almeno per quanto riguarda la 5080 non andranno ad aumentare di prezzo Sostanzialmente secondo me il prezzo MSRP della 5080 facendo questa anticipazione anche se non ho la sfera di cristallo Però basandomi un po' su quello che è il mercato quello che è stato Secondo me non andrà a costare più di 1000 dollari Però ovviamente avrà tutti i vantaggi della nuova architettura Insomma tutto quello che viene con una scheda grafica nuova E in teoria dovrebbe avere delle prestazioni in linea da quello che si rumoreggia intorno a una 4090 Quindi forse un 20-30% in più rispetto a questa Quindi fate un po' i vostri conti secondo me conviene aspettare E quindi questo era il video sulla 4080 Super Incredibilmente qui sul canale siamo riusciti a portare tutte queste schede grafiche della fascia Super di Nvidia dell'RTX 4000 Questo grazie ovviamente al mio amico Lorenzo non solo che mi ha prestato queste schede E in questo caso ecco non posso far altro che consigliarvi due video che se non avete visto vi invito a guardare Il primo è quello sulla 4070 Super Video registrato è uscito ormai diversi mesi fa ma ancora valido per questa scheda grafica Mentre il secondo video che vi consiglio è quello sul Ryzen 9 7950 X3D che abbiamo visto all'opera qualche settimana fa Detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto Se così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto nei commenti E mettete un bel mi piace al video Infine questo è veramente tutto Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video E noi come sempre ci becchiamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi